ecco è martedì oggi ci troviamo al nuovo di via olimpia si stanno allenando ripresa degli allenamenti di questa settimana quasi stanno allenando gli esordienti di mister giuseppe gian cristoforo e simone giordano bel nutrito gruppo di ragazzi tutti volenterosi qua c'è un altro gruppo di ragazzi tutti esordienti categoria esordienti qua c'è il mister giuseppe gian cristoforo ma pure c'è un altro gruppo tutti divisi sono tutti sono tutti esordienti da questo lato e qua ci sono i piccoli amici di mister ucci antonello ciao ragazzi tutto a posto bravi ecco mister antonello col suo gruppo di ragazzi piccoli amici il tempo è sopportabile per i piccoli abbiamo momentaneamente il problema del pallone inagibile per l'ultima ventilata proprio il maltempo il vento forte ha causato dei squarci rendendolo inagibile ma fra poco inizieranno i lavori i lavori proprio di rifacimento della copertura dopo il rafforzamento anche dello scheletro e più altri accorgimenti cioè i lavori dovrebbero durare un mese e poi non ci sarà più questo disagio e i piccolini si possono allenare in un ambiente più confortivo comunque stiamo andando verso la primavera anche i ragazzini si devono devono imparare a giocare possibilmente sempre all'aperto in quanto si temprano e accumulano più anticorpi a difesa dell'organismo sempre mister antonello qua ah qua c'è anche luca luca come vai gioca con i compagni su stai con mister stai a posto luca va bene eh papà prima l'ho visto papà mettiti insieme con i compagni su vai ecco c'è luca qua fai un saluto luca qua c'è il gruppo degli esordienti anzi più gruppi sono si sono divisi i più gruppi così possono essere più oggetto di controllo da parte del mister del rispettivo mister ecco un altro gruppetto ecco un altro gruppetto di esordienti ecco un altro gruppetto di esordienti ciao buonasera tutto a posto come si chiama quello Berardi o Beraldo? Belardo Belardo qual è? tutto a posto Belardo? è andato bene l'esordio? si bravo a posto ok c'è pure Andrea Andrea Nasuti veterano proprio del gruppo ecco sto ragazzo Belardo Emanuele ha esordito sabato scorso con il con la squadra degli giovanissimi qua c'è mister Giordano col carrello che porta l'attrezzatura la copiosa attrezzatura posto ragazzi avete finito l'allenamento? bravi 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 io in poi con? io in Italia no 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 non